Allora, partiamo. Mi presento per chi non mi conosce, sono Davide Preti, lavoro per la Collaboration Business Unit di Cisco, quindi non sono una persona sales. Mi sembra sempre altissimo il volume, ma magari sono io. Si sente bene? Ok. Quindi non sono una persona sales, non lavoro quindi per Cisco Italia, sul mercato italiano, ma lavoro per la ricerca e sviluppo della Collaboration e il mio focus è l'interoperabilità, principalmente con Microsoft, ma anche con Google e Zoom. Ora, oggi vi presento un pochino due macro temi. Partiamo da Hybrid Workplaces, usando questo termine ora molto utilizzato, diciamo il nuovo lavoro ibrido, quello che abbiamo ritrovato post pandemia. Come implementiamo nei nostri device di videoconferenza l'intelligenza artificiale. E poi una parte che è un po' più il mio pane, il concetto di meeting agnostic che Cisco ha. e spiegheremo perché parliamo di meeting agnostic nel momento in cui abbiamo annunciato che facciamo i device, che certifichiamo i device per Microsoft Teams e poi una parte finale sui Microsoft Teams Room Devices di Cisco. Partiamo con Hybrid Workplaces. Ora, questa è una slide su cui potremo parlare due ore, ma sono tutte cose che già conoscete. Quindi il concetto è che, tornati al lavoro post pandemia, ci siamo accorti tutto di botto che sono cambiate le condizioni di lavoro e che la collaboration adesso ha un ruolo centrale in qualunque processo di business e per il nostro lavoro. Diciamo che mi piace far notare come non è cambiato nel 2021, però se andiamo anche solo di dieci anni indietro, non dico trenta, uno pensava a videoconferenza, era questa cosa qua, era la conference room. Adesso invece, al di là della parte mobile, abbiamo gli uffici in casa, abbiamo spazi condivisi di ideazione dove andiamo a disegnare su board e in spazi magari su cui arriviamo QR code, la prenotiamo al volo, la usiamo 15 minuti e poi ce ne andiamo, era uno stand up meeting con un collega, sale riunioni, sale di training, ci sono mille declinazioni per la collaboration e questo è il portfolio Cisco di, sono praticamente tutti i nostri device, devo dire non ne ho messi due o tre per il semplice fatto che sono quelli non certificati per Microsoft Teams, perché comunque Cisco ha anche tutta una parte di collaboration basata sulla piattaforma di Webex, per oggi, se siete qua, penso che sia principalmente perché vi interessa la declinazione Microsoft Teams, Certified e quindi questo è il nostro portfoglio. Come vedete abbiamo sistemi come il Desk Pro, che è quello da scrivania, che vedete anche installato qui fuori, che potete vedere con mano, la Board Pro, che è disponibile qua fuori, potete vedere, poi abbiamo i sistemi due screen per sala, abbiamo tutte le room bar, fino al pannello fuori porta per il booking e poi, vabbè, cuffie, telecamere, insomma abbiamo anche queste periferiche certificate per Microsoft Teams. Ci tengo a dire una cosa, ho cercato di fare un lavoro certosino, tutte le funzionalità che vedremo oggi sono funzionalità che i nostri device possono darvi anche quando utilizzate e soprattutto quando utilizzate con Microsoft Teams, ok? Quindi, come dicevo, noi abbiamo anche la Webex platform, tutte le funzionalità che sono uniche della Webex platform io oggi non ve le ho messe, quindi qualunque cosa vediate qua sappiate che funziona con Microsoft Teams. C'è una sola piccola sbavatura in uno screenshot, poi ve la faccio vedere, ma non è fondamentale. Vediamo se mi cambio la slide, che PowerPoint oggi collabora poco. Eccolo qua. Allora, questo è un altro messaggio importante. Ovviamente Cisco, cioè la collaboration è quasi un di cui, adesso Enrico mi ringrazierà per questo, cioè fa molte altre cose. Il concetto è che noi abbiamo ovviamente clienti che hanno la parte di collaboration Cisco e poi per il network, la sensoristica, la security, hanno altri vendor, benissimo. Ovviamente la collaboration la potete calare in qualunque realtà, ma è anche vero che se voi avete la fortuna di avere già il network Cisco, il Wi-Fi, il Meraki, la security, quello che è, quando mettete i sistemi di collaboration Cisco è tutto molto integrato. Poi vedremo nei portali di management, per esempio, tutto quello che è sensoristica all'interno dei device di collaboration o anche stand alone, è tutto monitorabile dal Control Lab e dalle nostre piattaforme di management, Tausa Nice e quant'altro. Andiamo a parlare di intelligenza artificiale, un tema nuovo di cui non parla nessuno. come noi implementiamo l'intelligenza artificiale nei nostri prodotti. Anche qui noi abbiamo dell'intelligenza artificiale nella piattaforma Webex, oggi non ve ne parlo, andiamo a parlare solo di quell'intelligenza artificiale che trovate nei nostri device. Questo è il claim nuovo, diciamo, di Cisco, Distance Zero. Quindi la nostra stella polare è quella di andare con la nostra soluzione di collaboration a creare quella che è l'annullamento delle distanze tra i partecipanti ad un meeting, proprio perché ormai ognuno lavora da dove diavolo vuole, non ci si trova più alle 7.30 da Sago, dovendo fare traffico e pioggia, ma vogliamo annullare le distanze in questo modo. Come possiamo fare questa cosa? Questa cosa la facciamo grazie soprattutto, qui non so se è stata lungimiranza o anche un po' di fortuna, ma ormai abbiamo una collaborazione più che decennale con NVIDIA, che era famosa per i chipset grafici, ma si è rivelata poi essere ottima anche per tutto quello che è la gestione del machine learning e dell'intelligenza artificiale. Tutti i nostri device sono equipaggiati con chipset NVIDIA. La qualità che riusciamo a darvi e le funzionalità che riusciamo a darvi, mi piace sempre ricordare che sono basate su tre aspetti fondamentali. Il Room OS, che è il nostro sistema operativo, e anche in questo caso voi sapete che Tanberg è stata acquisita da Cisco, c'è stata continuità nello sviluppo del software e dei device, quindi qualcuno di voi potrebbe ricordarsi che c'erano gli EX90, i Tanberg 8000, la piattaforma MXP. Ecco, il nostro sistema operativo per i device di videoconferenza è ancora quello che è in continuo sviluppo dal 2001. Sono 23 anni di sviluppo e questo lo rende uno dei sistemi operativi, io dico il sistema operativo migliore che c'è in questo momento per la parte di collaboration. Poi c'è tutto il nostro hardware, quindi con l'intelligenza artificiale a bordo, quindi gestione intelligente delle telecamere, dei microfoni, dei codec, e appunto il chipset NVIDIA alla base che ci dà la potenza di calcolo per fare tutto questo. Andiamo a vedere quello che è una delle implementazioni dell'intelligenza artificiale dei nostri device. Cinematic meeting, questo è un termine del cosiddetto umbrella, cioè è un termine un po' generico con cui noi descriviamo la somma di più feature, ok? Ma è importante arrivare a spiegare il concetto finale, cioè quello che vogliamo noi arrivare ad avere con le riunioni cinematiche e di avere quell'effetto di regia, il director in inglese, di regia automatica che chi come me, dinosauro della videoconferenza, ha cominciato nel 1999 con l'H320 e le macchine che andavano con le BRI collegate, certo si faceva già in qualche modo, mi ricordo dei clicker collegati al mixer microfonico per cui se parlava all'amministratore delegato schiacciava un tasto e una telecamera motorizzata vibrando si girava e lo inquadrava e sembrava il Robocop. Ora non c'è più bisogno di apparati esterni, non abbiamo bisogno di controller, è tutto integrato nei nostri codec e non c'è più bisogno dell'intervento umano. Il primo video che andiamo a vedere, un po' effetto hollywoodiano, perdonatemi, è quello che spiega cosa vorremmo andare a ottenere. Non c'è l'audio, ma questa è colpa mia, scusate, rifacciamo. Perché non c'è l'audio? Ce l'abbiamo? C'è l'audio, non c'è l'audio. in real time, so that everyone on the call feels like they're in the room and part of the conversation. It would be amazing if I could stand and move around the room while I talk. I could go through our latest pitch or market forecast and nothing would be missed, not even if I spin dramatically and look right there. Quindi il concetto è quello di avere una regia automatica che capisca fondamentalmente dove sono gli occhi e la bocca di tutti i partecipanti. Quindi noi, e questo è già disponibile, lo potete già installare oggi, già funziona, riusciamo davanti a una persona che sta parlando con la sede remota, diciamo il classico Milano-Roma e sto guardando la telecamera e sono ripreso la telecamera davanti. A un certo punto il mio collega mi chiede una cosa, io mi giro per parlare con lui, sarei ripreso lateralmente, invece automaticamente io ho una telecamera anche sulla parete di fronte, e switcha la telecamera di fronte. Dicevamo, Cinematic è la somma di tante funzionalità. Una di queste funzionalità, anche questa dimostrabile addirittura qua fuori in un open space, forse anzi è la dimostrazione migliore, è la meeting zone. A volte vi capita di avere apparati videoconferenze installati in open space o in stanze che hanno le pareti a vetri, e la cosa fastidiosa è che ovviamente la telecamera vede le persone passare dietro o attraverso un vetro vede una persona seduta qua, perché questa telecamera vede anche quello seduto di là, e la telecamera di un altro apparato di videoconferenza andrebbe a focalizzarsi su una persona che in quel momento sta transitando o addirittura non fa neanche parte del meeting. Invece con la meeting zone possiamo andare in un secondo, ve lo dimostro qua fuori, in un secondo, possiamo andare a disegnare la zona creando una audio e video fence, quindi un bordo e un limite entro il cui la telecamera andrà a focalizzarsi. Se una persona cammina lì fuori la ignora, vedete che la ragazza cammina dentro e il sistema la rileva, che prima la stava ignorando e dice ok adesso è dentro la fence, allora la vado a riprendere. Questo è il meeting zone, è molto utile per esempio nella demo che abbiamo qua fuori. Tra l'altro tutti gli analytics seguono questi sensori, quindi se io ho stabilito che quell'apparato, la room bar con il monitor piccolino nell'open space è fatto per quattro persone, ok? Voi sapete che noi raccogliamo tutti gli analytics dei sensori, in control lab andrete a vedere qual è l'utilizzo medio della sala, se è un open space rischiate di avere un dato falsato, ah guarda la usano in 35 persone alla volta, no 30 stavano bevendo il caffè, ok? Quindi se io vado a disegnare la fence, andrà a ignorare tutte le persone al di fuori quella fence. Come io la disabilito la fence, lui dice guarda non sono più quattro, sono 35, perché adesso ti faccio vedere anche tutti i dati delle persone fuori da quel limite. L'altra funzionalità basilare del cinematic meeting, appena PowerPoint decide di collaborare con me, perché non lo fa, eccolo qua, è il cross view. In questo caso, vedete, questa sala ha una telecamera frontale qua e una telecamera su ogni parete, ed è proprio il motivo, scusate, la soluzione con cui quando una persona si gira e comincia a parlare con qualcuno al di là del tavolo, l'andiamo a riprendere sempre frontalmente. Così chi è remoto continuerà a vedere le persone che parlano con l'eye contact, ok? Invece di vedere le guance. Cross view già disponibile. Anche l'extended speaker messo a disposizione questo mese è un esempio di una sala che purtroppo ci capita, quindi un tavolo lungo chilometri, poi tipicamente le persone che sedono qua sono le più importanti. Abbiamo la possibilità, qui c'è un modulo telecamera classico della Rumbar di Cisco, sopra mettiamo una telecamera con uno zoom ottico maggiore e quello che possiamo arrivare a ottenere è che quando parla la persona più distante viene fatto un primo piano completo. Questo è quello che vede il sito remoto, quindi il sito remoto vede solo chi è seduto in cima, ok? Anche questo tutto in automatico. Chi sta parlando? Sta parlando chi ha capotavola? Allora facciamo vedere quello. Sta parlando uno che è due metri prima, faccio vedere con un'altra telecamera. Tutto in automatico e molto veloce. Questa è qui per vostra referenza, la troverete nel PDF, sono tutti, tutti no, sono alcuni esempi di layout. Come vedete vogliamo avere una soluzione per ogni possibile disegno di sala, veramente le più svariati. Quindi, distance zero, per ogni tipo di meeting, per ogni tipo di sala, ok? Qua c'è un'unica sala che non è disponibile in MTR mode, è quella spuria che vi dicevo prima, purtroppo mi è rimasta dentro. Questo si chiama Campfire, è un progetto, un Cisco, diciamo, disegnato dal nostro R&D, di una sala un po' particolare, dove avete questi codec che puntano 16 persone sedute attorno, sono sale custom. Ecco, per esempio, una sala custom di questo tipo potrà sì parlare con Microsoft Teams, ma avrà bisogno del gateway CVI. Non è nativamente integrata in Microsoft Teams, perché non è certificata come MTR. Però non dimentichiamo che noi abbiamo anche il gateway CVI. Ormai i partner CVI di Microsoft sono due al mondo, PEXI e Pesisco, quindi non è da dimenticare. Il declutter della meeting room è un concetto che mi piace molto ed è il fatto che, come vedete, sale con un tipo di tecnologia comunque complesso, come abbiamo visto, sono pulitissime. Una volta per ottenere quel tipo di funzionalità avevamo bisogno di telecomandi, microfoni a becco d'oca, 3000 controller, touchscreen, adesso è tutto integrato e invisibile. Vedete solo le telecamere, magari, e i microfoni sul tavolo. Meeting agnostic. E siamo perfettamente in tempo, quindi rimarrà anche qualche minuto per Q&A, magari. Meeting agnostic. Questo è un tema importante e importante soprattutto per me, perché è quello su cui lavoro io, ma che vorrei che passasse con la massima chiarezza. Allora, quando noi abbiamo deciso di certificare i nostri device per Microsoft Teams, non abbiamo creato dei nuovi device. Quindi, anzi, magari voi li avevate già in casa, è bastato un aggiornamento software e vi siete trovati la certifica pronta. Al momento della prima accensione, o con un factory reset, vi si presenta un wizard dove vi chiede come volete utilizzare il device, in modalità Cisco WebEx Experience o in modalità Microsoft Teams. Allora, noi abbiamo sempre voluto, partendo dal presupposto che questa è la più nuova delle soluzioni, perché ce l'abbiamo solo da un anno, ok? Quindi noi veniamo da una storia così, ok? Quello che abbiamo sempre voluto ottenere con i nostri device non era farvi utilizzare per forza, spingendo giù in gola, la WebEx Meeting e la WebEx Platto. Per me il concetto era noi pensiamo di avere i migliori device e anche la migliore piattaforma di meeting. Però, se volete utilizzare i nostri device con una piattaforma di meeting di terze parti, che sia Zoom, che sia Microsoft Teams, che sia Google, che sia BlueJeans e chi più o che ne ha più ne metta, potete farlo. E quindi avevamo questa Open Strategy che poi sul mercato a livello di marketing appunto veniva chiamata Meeting Agnostic. Ora, quando voi avete una macchina che funziona in WebEx mode, Cisco mode, chiamatela come volete, quindi non è un MTR, non c'è sul cliente di Microsoft Teams, potete arrivare a ottenere una soluzione dove avete, come vedete, il one button to push, quindi questo è il tasto Join per collegarsi, e vedete che c'è un meeting WebEx, un meeting Microsoft Teams, Google, Zoom, senza nessuna riconfigurazione, senza nessuno step di configurazione, potete andare, saltare da un meeting all'altro. Ovviamente utilizzeranno tecnologie differenti, ok? Però col tasto Join o tornando indietro usando questi bottoni che avete qua li fate partire anche da zero, se voglio entrare in un Microsoft Teams Meeting userò magari il Gateway CBI o userò il Direct Guest Join, il WebRTC Protocol, ok? Voglio entrare in un meeting Zoom uso una chiamata SIP, voglio entrare in un meeting Google uso il WebRTC, ma l'utente cosa ne sa non deve neanche saperlo, l'end user non deve avere queste conoscenze tecnologiche, anzi, non ne sa meglio, quindi il tasto che avete qua vi nasconde la tecnologia, quello che vi viene a chiedere è solo dammi il Meeting ID, poi ci penso io, userò io la tecnologia migliore per collegarmi ed è veramente agnostico perché noi abbiamo clienti, sapete voi potete dettare qual è la vostra piattaforma di meeting per i meeting interni, ma poi venite invitati a meeting di terzi e voi non potete mai sapere a cosa avrete invitati e quindi questo è tuttora il grande potere di queste macchine della WebEx platform e della Room OS. Ok? Ora, quando abbiamo deciso, ne parlavo proprio adesso con Neat, con un ex collega di Thunberg che adesso è lì, Neat, diciamo, quando abbiamo certificato, abbiamo detto che abbiamo annunciato che avremmo certificato i prodotti per Microsoft Teams, la reazione, soprattutto dei nostri competitor è stata ah sì, meeting agnostic, adesso basta. E invece no, perché, e questo faceva parte dell'accordo con Microsoft fin dall'inizio, se la stessa macchina voi la registrate con Microsoft Teams, non rimane bloccata solo all'interno del meeting di Microsoft Teams. Ok? Grazie alla dual registration e poi vi farò vedere un pochino basilare com'è l'architettura dei device, l'architettura software, grazie a una doppia registrazione verso Microsoft Teams e verso la WebEx Control Lab, voi ottenete ancora un certo grado di agnosticità, cioè quando entrate in un meeting Microsoft avete l'esperienza nativa, a cui siete abituati, quindi le chat bubbles, la participant list, le reaction, i cuoricini e tutte quelle cose di collaboration on top alla videoconferenza. Ma grazie al fatto che sotto c'è ancora il nostro sistema operativo che poi vi presento tra tre slide molto meglio, potete avere accesso a un altro menu dove avete ancora la possibilità di collegarvi a Meeting WebEx in maniera nativa, a Meeting Zoom, a fare chiamate SIP, potete andare a chiamare per esempio un vostro sistema, parliamo adesso con il nostro cliente che ha appena comprato un EQX, quindi la più bella macchina che abbiamo al momento probabilmente, e dice io la utilizzerò ancora in modalità Room OS, uso Microsoft Teams, uso il CVI, va bene, il bello è che se domani dovessero comprare un sistema Cisco e lo registrano in modalità MTR perché questo è quello che vediamo che i nostri clienti non hanno fatto una scelta di campo tutto MTR o tutto Room OS tutti hanno un misto le macchine si potranno ancora chiamare tra di loro perché comunque sotto c'è Room OS e quindi parlano la stessa lingua quindi noi stiamo portando il concetto di Meeting Agnostico all'interno del mondo MTR ora alcuni di voi potranno sapere per esempio che in un caso di nicchia se avete un MTR per Windows e il CVI di PECSIP la soluzione vi permetterà di fare chiamate SIP anche tra MTR e macchine di videoconferenza standard però intanto gli MTR per Windows stanno diventando sempre meno inoltre dovete avere il CVI di PECSIP quindi un grado di complessità maggiore nel nostro caso voi comprate un sistema ma anche quello più piccolo in assoluto lo registrate con MTR e avete le chiamate SIP integrate nel sistema senza bisogno di un gateway andiamo quindi a vedere questi benedetti MTR di Cisco come sono fatti allora l'aspetto più importante che volevo passare è che sono macchine noi definiamo dual layer è una macchina Linux ok questa è la slide più tecnica che ho quindi spero di non annoiare nessuno Enrico tu fermami quando esagero se non capisci me lo dici anche tu Fabio scusate un ex collega quindi noi abbiamo una macchina in Room OS e un sistema operativo Linux ok e come voi sapete gli MTR per Linux non ci sono ad oggi ci sono per Windows o per Android noi cosa abbiamo fatto abbiamo utilizzato un concetto che è tipico delle macchine Linux e abbiamo creato un container quindi un container logico in cui abbiamo installato l'Android per l'MTR quindi voi avete una macchina che in fase di bootstrap parte come Linux e poi fa partire questo container con dentro il Microsoft Teams Room questo ci dà una serie di vantaggi infiniti i due più importanti probabilmente sono innanzitutto che le periferiche e tra cui anche la porta Ethernet sono gestite a livello di Linux non a livello di Android se voi fate un network assessment di un nostro MTR che è un MTR per Android nel mondo Microsoft se voi fate una scansione di rete a voi risponde una macchina Linux quindi noi abbiamo clienti che non hanno mai potuto approcciare le macchine Android perché avevano policy che vietavano perché è considerato non sicuro per mille motivi che dicono ok ma noi questo possiamo installarlo perché tutti i livelli di sicurezza di rete le patch sono tutte Linux non sono Android quindi questo ci maschera il mondo Android il client Android il sistema operativo Android che abbiamo sopra la seconda cosa che ci dà è che voi sapete un MTR è un pacchetto chiuso che arriva a qualunque vendor tante volte guardando sistemi dei nostri concorrenti non cito nomi perché non voglio fare differenza ma sono tutti un po' uguali nel senso quello puoi fare c'è il wallpaper di MTR ci sono quei quattro tasti sì magari cambierà un po' la telecamera il microfono certo non voglio dire sono tutti uguali ma comunque voglio dire le funzionalità sono quelle punto nel caso dei nostri device noi manteniamo un livello sotto di Room OS che è sempre lì quindi voi vedete sì il wallpaper di Microsoft Teams ma vi basta un semplice swipe da destra questo è un esempio di una macchina tipo una board pro un despro quindi col touchscreen ma sarebbe uguale anche col navigator poi ve la faccio vedere il navigator quindi quel piccolo touch 10 pollici che abbiamo collegato ai sistemi non touch poi fate lo swipe e vedete che sullo sfondo ho la macchina tipica Microsoft Teams Room per Android ma qua ho il mondo del Room OS e qua posso andare ad aggiungere un sacco di funzionalità posso aggiungere bottoni che mi fanno veramente la differenza qui per esempio dove andiamo a vedere la parte intelligenza artificiale perché possiamo andare a selezionare l'intelligenza artificiale per la telecamera o per l'audio quindi se io seleziono qua microphone o camera posso andare a vedere le differenze e modalità le differenti modalità di grouping di speaker track frames la modalità presenter i preset quindi posso andare a dire al mio sistema come andare a utilizzare la telecamera e non uso l'intelligenza artificiale di Microsoft Teams non richiede la licenza pro non richiede cose particolari primo vado a utilizzare capacità integrate nel device ok tipo il cross view che vedevamo prima questo è l'esempio da un navigator quindi vedete è la stessa cosa questo è il sistema touch e questo invece è quando utilizzo il controller esterno anche qui faccio lo swipe e trovo la gestione della telecamera stessa cosa per l'audio vado a cliccare il microfono e posso andare a utilizzare il noise removal che è quello integrato nella macchina quindi non è quello di Teams questo per esempio per le macchine Android fa differenza perché Android mentre le macchine Windows possono con la licenza pro avere il noise reduction della cloud di Teams con quelli Android non ce l'hanno invece ve lo diamo già sul device ok questa è un'altra grande differenza qui abbiamo caricato alcune nella demo che c'è qua fuori che vi consiglio di venire a vedere sono gli in-room controls e i custom workflow quindi voi potete andare ad aggiungere qua delle icone tipo accendi la luce suona la musica altre cose o chiamare pagine web service now ho la demo qua fuori per esempio per aprire ticket direttamente sono in un meeting con un problema schiaccio service now mi si apre una massa e dico non vedo bene il video apri il ticket e mi risponde con il numero di ticket aperto ok queste sono tutte funzionalità noi non possiamo andare noi e i nostri competitor non possono andare ad aggiungere iconcine sul wallpaper di Microsoft Teams noi possiamo aggiungerle perché abbiamo questo menu alato e vengono aggiunte al room OS se la macchina è registrata sia su Microsoft Teams sia su WebEx Control Lab avete tutte queste funzionalità e potete anche andare adesso questa è una novità è stata resa disponibile questo mese potete adesso avere anche la call app la call app è un inizio di quello cioè una continuazione da quel punto di vista però diciamo è un ulteriore step di quell'approccio meeting agnostic che vogliamo dare anche agli MTR voi sapete che sul desktop sul wallpaper della macchina qui si vede pochissimo c'è un tasto call ok quello di Android di Microsoft Teams se cliccate quello fate partire una chiamata Microsoft Teams perfetto se schiacciate questo tasto call questo sarà customizzabile qui potreste chiamare dei meeting zoom per esempio e andrete andrete a utilizzare il zoom in SIP non in WebRTC quindi con tutte le funzionalità disponibili potete andare a chiamare il vostro call manager potete andare a chiamare videotelefoni potete andare a chiamare avete magari una MCU in casa perché avete i CDA che ancora vanno sul telepresence server sul CMS su quello che è è una chiamata SIP quindi potete chiamare chi volete e potete anche avere accesso come vedete alla directory quindi questa è la directory del Control Lab quindi se avete i telefoni Cisco la parte difonia piuttosto che la parte video andate a fare da una macchina con una connotazione MTR ancora delle chiamate standard e questo è un differenziatore che non ha sul mercato altri esempi ok Microsoft si è dimostrata molto interessata a questo sviluppo è molto interessata al fatto che noi possiamo farlo direttamente dai device perché Microsoft ovviamente non è che abbiamo dovuto spiegargli nulla sapevano bene di queste potenzialità ma avevano l'approccio a gateway ci servirà un CVI ci servirà un PSDN gateway ci servirà Pexip quindi ci servirà un partner certificato no no lo fa il device ok quindi non avete bisogno di aggiungere complessità e insomma il nostro sogno al momento il goal sarebbe quello di fare un bel merge tra il tasto call che c'è sul wallpaper di Microsoft Teams e il tasto call che c'è laterale perché comunque adesso avete due tasse di chiamate che fanno due cose diverse per carità gli utenti poi lo capiranno col tempo però sarebbe bello riuscire a integrarli e stiamo lavorando in questo senso questa è una funzionalità che abbiamo presentato in Enterprise Connect a Orlando a fine marzo abbiamo il supporto per i 21 noni siamo stati i primi con Android a farlo quindi avete il front row disponibile con i nostri device tutti i device tutte le room bar per capirci e anche il supporto per i touch screen di terze parti quindi ad oggi se comprate una board pro di Cisco è un sistema touch ma se comprate una bar e la mettete su un televisore vostro sul monitor vostro se è touch potete andare a utilizzarla per fare whiteboarding e per utilizzarla direttamente dallo schermo ok quindi voi potete comprare una room bar che costa due bar e un pomodoro collegarci un monitor di terze parti col touch screen e avete ottenuto una board insomma avete cercato di emulare una board poi ci rimettiamo a voi per la qualità audio microfono vedete voi però si può emularla questo per quanto riguarda la parte di MTR se avete domande ne prenderei adesso se no passerei alla parte di management che sono gli ultimi slide no sono stato così chiaro che svegliati ok workplace management questo è un altro grande differenziatore che abbiamo c'è qualche nostro competitor che ha dei buoni tool di gestione dei propri device ovviamente ma anche qui vogliamo essere il più possibile meeting agnostic anche sulla parte di management quindi sono fondamentalmente tre piattaforme di cui parlo velocemente che sono il control lab thousand eyes che è una recente acquisizione che abbiamo fatto per tutta la parte di monitoring e observability e Cisco spaces tre portali che sono sempre più integrati quindi in realtà control lab è quello trainante su cui poi fate eventualmente dei cross launch anche sugli altri allora parliamo di agnosticità esiste questo è il control lab qui potete gestire tutti i nostri device ne potete vedere ovviamente lo stato se sono in uso o meno se qual è lo stato se hanno dei problemi dove sono installati e quant'altro se sono in MTR mode se non sono in MTR mode lo siede tutto da una singola pagina ma la cosa importante è che se vedete qua vedete anche tutte le periferiche collegate cioè questi sono dei monitor Cisco non fa i monitor quindi potrebbero essere LG Samsung Dell che ne so chi più ne ha più ne metta io vedo anche le periferiche cioè io ho un device collegato con i vari cavi HDMI ai monitor alle telecamere lui ovviamente vede lo stato delle porte mi sa dire alcune informazioni su quel device mi sa dire se quel televisore è acceso o spento mi sa dire che risoluzione il refresh ok tutte queste informazioni scusate le vedete in control lab quindi non avete bisogno di avere anche il manager dei monitor LG o il manager poi ovvio ci saranno case in cui vi serve avere più dettagli magari ci sarà quel produttore avrà il suo sistema di manager in particolare per fare gli upgrade software però il control lab è proprio per il controllo è a volo d'uccello una visualizzazione insomma per poter visualizzare lo stato di tutte le periferiche microfoni telecamere quante volte il codec magari è acceso sembra funzionare io mi ricordo anni fa col TMS uno guardava si collegava dice no no è tutto a posto il codec è acceso sì peccato che sono spenti i monitor la telecamera non è rilevata il microfono un topo ha mangiato il cavo in questo caso ora vediamo tutto perché possiamo vedere lo stato anche di microfoni e telecamere e quant'altro quindi anche da questo punto di vista non vogliamo andare a monitorare solo le nostre macchine i nostri codec ma anche tutto il mondo che è collegato sempre Control Lab ci dà accesso a tutti i dati analitici quindi l'utilizzo delle sale sempre più spesso mi capita di parlare con clienti che cominciano il meeting più o meno dicendo ma ci siamo resi conto che ci serve abbiamo un piano con quattro sale videoconferenza sono costantemente sovrautilizzate abbiamo dei limiti di qualità dell'aria che vogliamo mantenere qualità perché c'è tutto un concetto di la qualità dell'aria in una sala mi dà anche poi degli effetti sul cervello delle persone quindi diventano più o meno efficienti produttivi e ci sono aziende che io parlo poi principalmente con i clienti americani però anche in Europa sta succedendo che dicono noi ci rendiamo conto che avevamo delle sale che avevamo detto sono per sei persone e hanno costantemente dentro nove dieci persone quindi la qualità dell'aria è più bassa è più rumoroso sono meno confortevoli la gente non ci va volentieri oppure si rendono conto che a un piano ci sono quattro sale tre sono perennemente in overbooking e una non la usa nessuno vuoi vedere perché temperatura 16 gradi o 31 perché non va all'aria condizionata i sensori all'interno dei nostri device vi danno tutte queste informazioni possiamo sapere in una sala quante persone ci sono qual è il livello audio qual è la temperatura la qualità dell'aria e tutti questi dati ok carino che vado sull'interfaccia e lo vedo al volo però magari mi interessa un bel modo di fare un'esportazione dei dati di vedere qual è l'andamento e tutto questo è visibile in Control Lab ed è uno strumento meraviglioso per andare a vedere come i miei utenti stanno usando gli apparati di collaboration e là dove devo apportare delle modifiche che vanno a sfociare nel building management perché poi c'è una grande coesione al momento quindi scusate questa è la slide dopo andremo a vedere con Cisco Spaces che grazie a tutta la sensoristica esterna o interna ai device possiamo andare a integrarci con i sistemi di building management nel mezzo abbiamo questa parte di Thousand Eyes allora in Control Lab da sempre molto amato c'era la parte di troubleshooting quindi avevate in tempo reale per alcuni meeting o comunque anche dopo la fine del meeting potevate andare a vedere se c'erano stati problemi perché era caduta una chiamata se c'erano problemi di packet loss e cose di questo tipo ok adesso abbiamo anche integrato con gli agent di Thousand Eyes direttamente sui nostri device questo è disponibile anche in MTR mode quindi se voi avete un desk pro in MTR mode che si connetta a un meeting di Microsoft Teams potete andare a vedere sul portale di Thousand Eyes o tramite Control Lab fa un cross launch e potete andare a vedere e Thousand Eyes vi dà fondamentalmente un traceroute che vi dà tutte le porte in uso potete per esempio un caso tipico forse fin troppo semplice la chiamata va in piedi il video è nero vai a vedere e ti dice sì su quel router ci sono le porte UDP chiuse è di una velocità ce l'avessi avuto io vent'anni fa adesso non avrei capelli bianchi e sarei molto più felice quindi il troubleshooting è reso veramente facile da Thousand Eyes ripeto disponibile sia col CVI sia in MTR mode perché? perché è una funzione del device oltre che ovviamente della platform questo invece è il concetto di building management quindi Cisco Spaces è questa soluzione fenomenale che purtroppo oggi non riesco a farvi vedere qua ma potete andare a vedere sul sito comunque ed è la possibilità di avere la piantina del vostro ufficio su monitor in questo caso per esempio direttamente su una board quindi interattiva e da cui potete qui è un po' piccolo lo screenshot però ci dice quante persone ci sono al piano quante sale ci sono qual è la qualità dell'aria qual è la temperatura media qual è la temperatura specifica di una stanza e questo è fatto grazie all'integrazione con tutti questi sensori che possono essere certo quelli integrati al device quindi per esempio per sapere che ci sono quattro persone in sala noi lo rileviamo perché c'è la telecamera dell'EQX che ci dice ci sono quattro persone però poi abbiamo anche tutta l'integrazione con Catalyst Meraki e e questo è sempre più importante sensoristiche esterne telecamere sensori per la CO2 temperatura che ci permettono di andare a monitorare la qualità e l'utilizzo del piano del building inoltre Cisco Spaces non fa solo quello fa anche non so se in questo screenshot si vedeva perdonatemi no non si vede o poco mi permette di al volo prenotare una sala quindi nell'ufficio di Parigi per esempio se avete sentito prima nella fire chat Enrico Miolo ne parlava abbiamo installato questi sistemi evoluti e a ogni piano quando si esce dall'ascensore c'è davanti una board pro con la mappa della sala con le meeting room io posso vedere quali sono in uso e quali occupati ne trovo una quali sono in uso e quali libere ne trovo una libera ci clicco sopra col dito e gli dico riservala a quel punto mi mostra il tratteggiato di che strada devo fare nel piano per arrivarci e me la tiene occupata per tre minuti è configurabile nel nostro caso è tre minuti abbiamo tre minuti per andare alla sala entro e a quel punto lui vede che è occupata i pannelli fuori porta cambiano colore è tutto integrato ok e me la dà occupata se entro tre minuti non arrivo mi spiace hai perso torna libero però tutto questo è integrato e non è fantascienza è la somma di tante tecnologie che sono però endemiche in tutta la nostra soluzione quindi dalla parte di device di videoconferenza ma anche la rete poi come dicevamo prima non è obbligatorio avere i catalyst i meraki e tutto Cisco sareste molto più felici se fosse così però se anche avete una moltitudine di vendor potete andare a prendere alcune parti della nostra soluzione per esempio gli apparati di collaboration con Cisco Spaces e già avete dei buoni dati una buona qualità di dati per tutto quello che è cosa succede perlomeno dentro le sale di videoconferenza temperatura qualità numero di persone occupants tutte queste cose qua quindi questo era per me oggi lo scopo insomma farvi vedere come con i nostri device di collaboration con le nostre piattaforme di management possiamo andare a supportarvi in tutte le forme possibili e più imbarazzanti di sale che potete immaginare tutti gli utilizzi che siano training room che siano sale di videoconferenza home office è tutto disponibile all'interno dei nostri sistemi e ripeto tutto quello che abbiamo visto si integra perfettamente col mondo Microsoft Teams e non solo Teams perché ovviamente dietro c'è tutto quello che è il 365 insomma se non ci sono domande siete liberi prego i monitor touch di terze allora quali sono i modelli che supporteranno i monitor touch di terze parti tutte le bar l'EQX avrà un solo dei due touch cioè comunque i touch funzionano sempre sul singolo schermo quindi tutti i nostri sistemi lo supporteranno quindi il codec EQ e le room bar quelli nuovi insomma tutti i sistemi la room bar pro li supporteranno c'è una lista di terze parti certificate quindi che sappiamo che se compri quel modello Samsung LG Dell sappiamo che va ne vuoi prendere un altro che noi non abbiamo certificato e il discorso sempre è quello best effort si spera che vada se ci sono problemi però purtroppo noi possiamo fare poco però tutti i sistemi nuovi non i room kit ecco non quelli vecchi ecco no no room bar devono avere room OS 11 insomma le ultime versioni e posso poi farti avere eventualmente la lista comunque le macchine ho già a listino in poche parole ok io vi ringrazio e buon collab days grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti